ciao a tutti ragazzi siamo ragazzi qui sulla nostra ciao alla croft 5 ragazzi oggi 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 ci ho messo un anno e mezzo ragazzi per ritornare a casa tutto l'ottima che ci stani perché non trovo qui il post allenato sul sud era vicinissimo al boss al star che è qui e appunto raga oggi dobbiamo andare a ponare il nostro boss ragazzi non so se ci riusciremo noi nel dubbio ragazzi ci proviamo non so che si sta a studio rumore assurdo che te l'abbia sentito anche voi sono dovuto andare a recuperare una charging table lì in fondo ho dovuto fare un bordello di chunk però ragazzi sono pronto a sponarlo non so se ce la facciamo nel dubbio ho preso una mela non so perché sono in peaceful? mi hanno messo in peaceful? no no oh no oh no eh niente aspettate cosa sta succedendo? si sta caricando? ma quello serve la charging? cioè tra l'altro non abbiamo più l'arco mannaggia madonne madonne ma aspettate primo no non si può fare mangia la mela mangia la mela mangia la mela mangia la mela vai 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 è a metà vita vai 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 devo spammare ragazzi non sto a sparare se non spammo vai 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 su che sta morendo su che sta morendo è morto è morto oddio mio un parto raga un parto ho trovato l'assetto è stato mamma mia raga una cosa assurda bello cosa ti spara? l'amico nostro è un divino addirittura con un fatto tu cosa spari? dimmi un po' siamo questi che fa con la limonite che ora abbiamo la limonite poi abbiamo la sua statua le deep case le deep case cosa ci fa con la deep case ah sono casse credo proviamo si ci ha dato un'arma uh 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 cosa spari tu? bullet vediamo c'è da dei è del carbone un po' inutile i bullet cosa si fanno? sono più facili i bullet? abbastanza sì però non credo siano questi sono gli unici bullet limonite bullet può essere che siano questi andiamo a vedere raga torniamo a casa se ricordo tutto il fatto abbiamo sconfitto il nostro primo boss ragazzi che è questo era il gigante nelle terre emerse è stato abbastanza facile ma più che altro per una questione comunque ragazzi stavamo morendo quindi la nostra armatura non è proprio tantissimo forte però comunque ragazzi non è male quindi tutto qui andrei a mettere qua dentro tra l'altro ragazzi dobbiamo fare un magazzino migliore diciamo perché altrimenti così è un casino dobbiamo andare a mettere questi qua dentro silver coin li mettiamo qui ad esempio mettiamo anche la denser poi faremo delle stanze intanto vediamo la nostra statuetta maronna fa il verso tu ragazzi mi sono spaventato troppo tipo poi non vedete la mia faccia ma sono saltato dalla sedia un pochettino dai non troppo però un pochettino mi serve della computer la computer la teniamo la di brutto e teniamo la computer io direi di andarne a fare prima un pochetto per vedere se è questa al contrario ecco così 64 se è questa ne facciamo altre è questa di brutto però ora ci devo mettere le cose belle ossia ok c'è stato un faccio un fatto dealt by gun unbreaking io ce l'andrei a mettere nel dubbio si vede non manco se c'è unbreaking però nel dubbio raga abbiamo scoperto che si fa così quindi andiamo a farci qualche altro colpicino che ci può essere utile me li metto qui e andiamo allora vediamo un po' è forte raga è forte vero vero forte mi stanno svuotando mi sa raga mi sa che mi stanno svuotando potrebbero starmi svuotando non è bello quando si svuotano controllo mi stanno svuotando decisamente però lascerò svuotarmi ragazzi no vabbè tanto oh no bene io il sipolano no 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 ciao ciao ora raga cosa ci vogliono fare questi anni qui ora ora non siamo tipo le divini no devo posare questo e qua non c'è nessuno no se ne c'è qualcuno io bastano due colpi che diamattiamo ragazzi però ovviamente è molto più veloce dell'archetto nostro l'archetto potrà anche fiottare però questo è molto più insomma molti colpi però infatti che non ci vuole niente a farli si riprendono e poi guardate non so come inzio uno però ok qualcosa mi ha sparato non so chi non so quando non so come aha cechino professional devo andare contro niente il volumo nero che brutto lui è tutto brutto perché non sta morendo non si è capato più ragazzi a sparare la gente non il cavallo poi fluttu vai ma cos'è eh fermi tutti amici cos'è ah è un cappello oddio mio sembrava un mostro strano potremmo provare anche quelle con le cannon bull credo boh magari è più carino proviamolo direi dai tanto ormai dove l'abbiamo messo è qui le sue munizioni sono le cannon bull si fanno solo limonite queste diversamente dalle altre usiamo la nostra limonite per fare queste cose 48 bull mangio un attimo è bello sto cecino comunque ma lancia una palla enorme fa 18.5 quindi è molto più forte ne spara 2 con che senso 47 buono sei preciso tipo oh 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 madonna eh questo po' le cannon bull si fanno un punto assoluto proprio stiamo testando queste nuove varie io le terrei tutte e due nell'inventario raga possono essere utili rimane a busto questa la vado a posare perché di plans per il momento ragazzi magari la visitiamo in un prossimo video abbiamo anche la divina refugee da continuare però io in questo video ragazzi vorrei continuare anche un po' le tasks le tasks e andiamo a posare queste cose qui che ci sono inutili questo no ecco queste cose ragazzi io me lo porto appresso perché stiamo in un'altra dimensione cioè molto utile quindi usciamo da qua dentro per l'amore di Dio mi sta esplodendo la testa raga com'è possibile mi sa che voi stavate anche sentendo un doppio non è buona come cosa che voi sentivate doppio no non è buona mai come cosa mi devo abbassare un po' il volume raga perché ogni volta ho 9 minuti di video ragazzi ho finito il video perché questo video non è là più o meno una ventina di minuti non di meno dai 16 ai 17 perché voglio fare 15 anche Minecraft portandolo ormai una volta a settimana quindi da 15 minuti anch'esso però stavo dicendo voglio vedere le task scusate appunto ragazzi stavate sentendo doppio non siamo assolutamente professionali allora rosite dove si trova la rosite nell'overworld abbiamo della bella però tutto fa 19 invece l'armatura più 3 più 4 più 2 più 4 più 4 più utente già di più non potenziata eh raga figuratevi potenziato oppure la subterra che da 40 a 100 inviti ma no e poi esplode il mondo tipo secondo me rolling cobblestone non so cosa fa questo fatto però ok oh mio dio perché oh mio dio fa 12 si chiama screamer quindi paura delle holy arrow che non so manche come si fanno però poi abbiamo 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 diverse cose da fare altrimenti nella divina rpg ragazzi cosa possiamo fare vediamo un po il kraken direi di no per il momento però l'acqua estrive magari vediamo questo che ormai ho capito 2 più 3 no praticamente uguale la dimensione dell'end ragazzi io nello scorso video nel senso dopo lo scorso video prima di questo video avevo provato a fare un ender compas innovinate il portale non esisteva cioè attenzione il portale esisteva anche si può dire però non c'era il portale in sé nel senso era tagliato sinceramente non so quanda possibilità ci sia che esca tagliato un portale dell'end spiegatemelo voi non so come come si risolve quindi al massimo ragazzi riprovo magari il ball faccio rigenerare faccio qualcosa ci provo comunque perché non credo ci sia altro comunque possiamo arrivare all'end ovviamente anche per tutte le robe però non c'è quella che ci serve a noi ossia ovviamente possiamo andarci con gli occhi però il portale è sempre quello non è proprio buonissimo intanto ragazzi volevo vedere un fatto con il nostro coso con il rocket rifle riusciamo a prendere si sott'acqua con il cannonball riusciamo a prendere sott'acqua mi sa di no forse a colto raggio si si a corto si però dopo un po' si dà a perdere tipo le frecce non è buonissima come cosa ragazzi però va bene volevo vedere qui un attimo se avevamo altre cose tipo ci possono servire queste cose non ho ad esempio abilità non so cosa siano perché per il momento ho sbloccato solo le skill ragazzi io non sono poi così alto di livello in un prossimo video ragazzi cercheremo o di andare nel land vediamo un po' oppure comunque di cercare un draghetto per fare delle armi più potenti di questa oppure magari ragazzi off camera cercherò di ammassare qualche altro wither perché c'è una cosa in servo che vorrei farvi vedere però mi servono davvero davvero molte molte netherstar un coso del ghiaccio credo un cavallo della ice and fire non l'avevo mai visto sinceramente un cavallo dell'ice and fire però ok in questa parte non ci dovrebbe essere niente teoricamente perché a parte che l'ho già esplorata però teoricamente non ci dovrebbe esserci niente a prescindere e ragazzi magari vedremo un po' cos'è questo fatto qui che ancora non sono riuscito a comprendere diciamo ci sono molti di questi cosi che neanche so cosa siano credo però ovviamente non è appunto la la dovendo faccienza sarà qualcosa di un drago morto ragazzi quindi teoricamente manca tanto qui cos'è quel fatto perché c'è del fuoco della lava è quello il problema questo materiale no c'è della soul c'è dell'ossidiana cos'è questo posto raga è stranissimo oh lì c'è un fatto però mi sa che se non c'è il drago come lo otteniamo l'uovetto vabbè magari se infastidiamo qua arriva che ne so mi rompo la tana no non c'è nessun draghezzo ragazzi quindi raga io direi che per questo video può essere anche tutto appunto i video saranno a 15 se di basso da 16 potranno arrivare anche a 18 ragazzi ma non più di quello perché appunto sto un po' ingasinato poi più che altro appunto facendo uscire comunque non pochissimi video sto cercando comunque di rispettare diciamo un budget comunque bene o male ragazzi non posso far uscire tutti i video proprio tutti quelli che volete però nel senso di tutte le dimensioni alla fine oh mio dio il socio di tutte le lunghezze appunto il video più o meno deve essere comunque della stessa lunghezza tutti i video essendo che ormai sono quasi tutti appunto escono uno un giorno e poi due giorni no avete capito ormai come funziona il sistema per fare queste cose ragazzi sul mio canale ovviamente usciranno meno video in questo ve l'ho già detto e perché appunto per la scuola per tutto anche però anche appunto per altre cose però raga io spero che questo video vi sia piaciuto e continuerete a guardare ragazzi tutti gli altri i miei video sul mio canale e vabbè raga io direi che se volete continuare a vedere appunto i video sul mio canale iscrivetevi lasciate un bel like altro a questo video e a tutti gli altri video e vabbè io direi che per questo video è tutto il vostro come dirci è tutto beh